Morti sul lavoro, la Sicilia nella zona arancione. L'Aidi, l'Associazione Impresse d'Italia, propone incentivi fiscali in cambio di sicurezza. L'intervista al coordinatore regionale Federico Lentini. Oggi la sicurezza sul lavoro è una parte essenziale della vita di ogni azienda. Probabilmente per rendere più sicuro il lavoro oggi serve aiutare le aziende a rendere il più efficace possibile un sistema prevenzionistico e protezionistico così come previsto dalla normativa. In questo senso probabilmente la normativa è arrivata a un punto di saturazione dal punto di vista delle sanzioni che non hanno fatto altro che crescere nell'ultimo trentennio e nonostante questo i dati INAIL lasciano intendere che comunque il numero dei morti sul lavoro sia sostanzialmente invariato. Il che ci porta a immaginare, almeno come Aidi, come Associazione Impresse d'Italia, che è un gruppo di imprenditori che fanno parte di questa associazione di cui io sono coordinatore regionale, una proposta legislativa che miri ad un incentivo fiscale e un incentivo da parte dello Stato alle imprese per la gestione di un efficace sistema di prevenzione e protezione. Un cambio legislativo, non soltanto deterrenza, vigilanza, controlli e sanzioni che comunque sono necessarie ma un aiuto concreto perché l'imprenditore possa concepire la sicurezza non soltanto con un costo ma effettivamente come un investimento a tutti gli effetti. L'impresa che lavora con dei lavoratori che si sentono al sicuro è certamente un'impresa più produttiva, non soltanto perché il lavoratore che produce in un ambiente sicuro è un lavoratore più produttivo ma perché un'azienda che lavora in sicurezza è un'azienda organizzata e che non rischia di incorrere in tutte quelle problematiche, spesso drammatiche, che possono derivare da un infortunio sul lavoro, a maggior ragione laddove un infortunio sia mortale e ciò determina ovviamente l'attivazione di un procedimento penale, le azioni di rivalse da parte dell'INA, le azioni di risarcimento, oltre alle problematiche interne da dover gestire dal punto di vista emozionale del rapporto con gli altri dipendenti. Quindi un'azienda che lavora in maniera organizzata è sicura e certamente un'azienda che lavora in modo più produttivo.